bisogna esperire ogni piano punto f attraverso francesca r 12 novembre 2023 quindi questo ancora una volta conferma quello che voi spesso avete detto che una cosa è l'intelligenza e la cultura è una cosa il sentire sono due cose completamente differenze però dovete tenere presente che come bisogna esperire il piano fisico così bisogna esperire ogni piano di esistenza compreso piano mentale e talvolta all'interno di un piano di esistenza più basso bisogna servirsi e a servirsi dei piani di esistenza più alti quindi piano mentale è sicuramente più elevato del piano fisico e se serve passare attraverso una razionalità è utile non la si può abbandonare all'interno del piano fisico questo è importante ma all'interno del piano mentale puoi abbandonare il piano mentale perché lavori per abbandonare il piano mentale qui voi lavorate per non aver più necessità del piano fisico non la si può abbandonare il piano fisico questo è un'interno del piano fisico questo è un'interno del piano fisico non la si può abbandonare il piano fisico questo è un'interno del piano